Buonasera, vi leggerò in apertura una breve lettera La scrisse Antonio Gramsci nell'ottobre del 1935, un anno e mezzo prima di morire sfinito dal carcere fascista È indirizzata a suo figlio Delio, ragazzetto, tu ve lo esorta come sentirete a Carissimo Delio, mi sento un po' stanco e non posso scriverti molto Tu scrivimi sempre di tutto ciò che ti interessa nella scuola Io penso che la storia ti piace, come piaceva a me quando avevo la tua età Perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini è possibile Tutti gli uomini del mondo, in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi Non può non piacerti più di ogni altra cosa Stasera parleremo di storia, per la prima volta getteremo un'occhiata in quel poderoso archivio segreto 86 km di scaffalature dove sono custoditi i documenti della storia vaticana In quel purgatorio cartaceo, come è stato definito, c'è gran parte della storia del mondo Buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito gentile Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera Ci è venuto a trovare in qualità di ricercatore, vorrei dire Perché lei ha avuto la bellissima idea di andare ad esplorare quello che una volta era l'archivio segreto vaticano Poi Francesco mi pare che lo abbia ribattezzato apostolico Ecco, archivio apostolico ha attenuato Però lei, bravo, ha mantenuto nel titolo del libro questa parola affascinante Secretum Ora, cercare di parlare di questa lunga intervista a Monsignor Pagano Che tra l'altro sarà qui tra poco anche lui È un po' complicato perché, come ho detto prima, dentro quell'archivio c'è la storia del mondo Proviamo però ad isolarne qualche punto, qualche elemento E siccome lei è un valentissimo editorialista politico per il Corriere della Sera, comincerei proprio da qua Storia del Novecento, complicatissima storia del Novecento Uno degli argomenti che lei tocca per esempio è il finanziamento degli americani E al Vaticano per consentire di fare un conclave Ma che modo è questo? È il modo normale col quale il Vaticano nel 1922 affronta un problema imprevisto E cioè che Benedetto XV, questo Papa che passa la storia per essere stato quello che ha fatto un appello storico contro la Prima Guerra Mondiale Perché in realtà era uno spendacione E quando stava per morire andarono a vedere nel suo appartamento la cassaforte E non c'era una lira Non c'era una lira non perché l'avesse rubato, ma perché aveva delapidato tutto Allora il segretario di Stato di allora Gasparri Mandò due telegrammi cifrati Al rappresentante Vaticano a Washington Bonzano Il Nunzio, il Nunzio Sì, non era Nunzio perché era il delegato apostolico Il Nunzio, il primo Nunzio fu nel 1984 Non c'erano relazioni diplomatiche piene ancora Ho fatto uno scivolone No, no, che scivolone Io pure avrei detto Nunzio Poi ho letto che era delegato apostolico Quindi ho detto quello Ma questi telegrammi cifrati chiedevano urgentemente ai vescovi americani Di mandare tutti i soldi che avevano in cassa E questo Bonzano fu un po' perplesso Però ubbidì telegraficamente tramite banca commerciale italiana E mandò questi soldi Compresi alcuni cents Specificò molto bene Tra l'altro nel libro sono indicate le trascrizioni di entrambi Questi telegrammi cifrati E grazie a quelli poterono fare il conclave Altrimenti il conclave non si poteva fare Perché il Vaticano non aveva una lira E questo naturalmente comportò Un'attenzione particolare in prospettiva Del Vaticano nei confronti di una potenza protestante Come gli Stati Uniti In prevalenza protestante Perché poi italiani e irlandesi Avevano immesso una componente cattolica Non indifferente Questa cosa, questa storia Del rapporto stretto con l'America e i suoi dollari Continua anche con Pacelli Lei lo sottolinea nel colloquio con Monsignor Pagano Pacelli, cosa che non si sa Perché di Pacelli si sa il rapporto stretto con la Germania Di cui poi parleremo con Monsignore Ma si sa poco del suo rapporto con gli americani Come andò quella storia là? Beh, fu un rapporto in qualche modo profetico Dal punto di vista Vaticano Perché il Vaticano capì All'inizio della seconda guerra mondiale Ma forse negli anni precedenti pure Che il baricentro geopolitico del mondo Si sarebbe spostato dall'Europa agli Stati Uniti E quindi Pacelli fu la persona Che più undicesimo Mandò negli Stati Uniti nel 1936 Per farsi conoscere dagli americani E anche per raccogliere fondi Perché poi c'è sempre un aspetto finanziario In questo rapporto Tanto che Pacelli tornò Con credo circa un milione di dollari Di benefattori americani Ed è stato un rapporto Che è stato costruito in modo Non voglio dire scientifico Ma certamente con una convergenza di interessi Soprattutto contro il comunismo Che poi si è visto quanto abbia pesato Perché in fondo cosa ha capito l'America? Che il Vaticano era il fattore permanente Della politica italiana E quindi ha puntato su Pio XII E sul Vaticano Molto più che su De Gasperi Come garanti di un'Italia Che sarebbe andata In una direzione filoamericana Lei che è un fine notista politico Oggi non è più così Il Vaticano non è più Il baricentro La bussola della vita pubblica italiana No, non lo è da tempo Secondo me non lo è da tempo Ma soprattutto Ho la sensazione Che questo Vaticano Il Vaticano abbia un atteggiamento post-occidentale In fondo il papato di Francesco Viene accusato da alcuni Di essere il papato più vicino ai BRICS Ai paesi alleati del terzo mondo Alternativi all'Occidente Che non filo occidentale Ricordiamo Brasile Brasile, Russia, India Cina E poi si stanno aggiungendo Anche se in modo molto controverso L'Argentina E altri Ma il problema È che in realtà È un quacervo di interessi Molto diversi tra loro Alcuni di questi paesi Tra l'altro dipendono dai fondi Della Banca Mondiale Quindi dagli Stati Uniti Per cui Ma certamente È un grumo di potere E soprattutto Un grumo demografico enorme Che si sta ponendo In alternativa all'Occidente A volte in conflitto con l'Occidente È inutile che dica ogni volta Che questo bel libro Secreto Eccetera Ripetita Juvent Lei parla Per i suoi interessi Ma Certo Io ho la più grande stima Di chi guarda questo programma Quindi Molti avranno già memorizzato Tra l'altro ricordo Siccome qui dei libri Come ho già detto una volta E ripeto Ripetita Noi qui dei libri Parliamo sul serio Questo è un libro Che si legge Con molta Con molta facilità Tra l'altro Anche perché È in forma di dialogo È una vera e propria intervista Con domande Articolate E risposte competenti Quindi Quanto di meglio Possa dare un'intervista Dicevo Lei ha ricordato Che sotto Pio decimo Attenzione Ritorniamo Pio nono Pio decimo Undici Inizio novecento Inizio novecento Il Vaticano godeva Ed era afflitto Nello stesso tempo Da una ramificata Rete di spie Sì Sì Le carte Benigni Che tra l'altro Ha scoperto Monsignor Pagano La cosa singolare Queste sono carte Che raccontano La storia Di questo Monsignor Benigni Che era Il professore Di Ernesto Bonaiuti Del primo Modernista O comunque Il simbolo Del modernismo Il quale Fu come altri Perseguitato Da Monsignor Benigni Perché C'era uno spavento Del Vaticano Nei confronti Della modernità Ecco Scusi Prego Massimo Franco Qua ci dobbiamo Fermare un attimo Perché Pio decimo E' quello Della famosa Enciclica Paschendi Apostolici Gregis Che E' appunto Contro il modernismo Ma Prima di lui Pio nono Aveva fatto Il sillabo Nel quale Condannava Tutte le teorie La libertà Di stampa La libertà Di parola Il socialismo Cioè Lei ha detto bene Già da Pio nono E poi con Pio decimo La chiesa Era terrorizzata Dall'avvento Della modernità Che sentiva Giustamente Come una minaccia Sì E' tanto vero Quello che lei dice Che questa rete Di spie Era intitolata Pio nono Era il sudalizio Pianum Quindi era qualcosa Che si richiamava Proprio A quell'esperienza Reazionaria Qual è il problema? Almeno Quello che ci racconta Monsignor Pagano Nel libro Che in realtà E' stata una specie Di maccartismo Religioso All'inizio del Novecento Perché Con questa ossessione Della modernità Benigni Attaccava Chiunque Fosse Anche solo Sospettato Di essere modernista E quindi Molte intelligenze Cattoliche Sia sacerdoti Sia accademici Sono stati Perseguitati In un modo Che ha Fatto regredire La chiesa E non l'ha fatta Progredire Rispetto alla modernità Abbiamo citato Mi faccia dire Due parole Su Ernesto Buonaiuti Una figura Eroica Della quale Mi sono dovuto Occupare Qualche tempo fa Sacerdote Cattolico Antifascista Fu uno Dei dodici Che non firmarono La legge Dei cattedratici Che non firmarono L'adesione Al regime Perseguitato Sotto il fascismo E perseguitato Anche dopo il 45 Tanto che si dice Forse Drammatizzando Un po' Che quando morì Nel 46 Buonaiuti Morì di crepa cuore Per le persecuzioni Alle quali Era stato sottoposto Lei condivide? Guardi Lei su questo Sa molto più di me Mi pare Io posso solo dire Che effettivamente È stata una vittima Ma anche una vittima Di Benigni D'altronde Avevano due atteggiamenti Verso la cultura E la modernità Agli antipodi Anche se poi Credo che Bonaiuti Stimasse Benigni Almeno all'inizio E capì Alla fine Che era spiato Devo dire C'è una Per far capire Quanto Benigni Fosse pessimista C'è un racconto Che riferisce Pagano Di una conversazione Tra Bonaiuti E Benigni Nella quale A un certo punto Benigni Dice a Bonaiuti Guardi La storia In fondo È soltanto Un conato Di vomito Perché in realtà L'umanità Non cambia mai Quindi Era Non aveva del tutto Torta A parte il vomito Che insomma Un po' troppo Però Che l'umanità Ripeta sempre Gli stessi errori Sì Il problema È che lui Riteneva Che la soluzione Fosse il santo uffizio Ecco Quindi questa Magari era la cosa Che rendeva Il suo pessimismo Un po' inquietante Ecco Sì sì Difatti Quello era il modo spiccio Ovviamente Nel novecento Non si poteva più Mandare la gente Sul rogo Come nel seicento Però Insomma I modi spicci Che veda Dottor Franco Qualcuno Ha cercato Di applicare Fino a pochi anni fa Quando la conferenza Episcopale italiana Cercava di guidare Con mezzi leciti E meno leciti La vita politica Del paese Lei lo sa Interferendo Perfino Nella domenica Elettorale Sul possibile Andamento Del voto Oggi Con Papa Francesco Quali che siano Le critiche Che gli si possono fare Questo non c'è più Ma questo non c'è Da molto tempo Perché credo che La Chiesa italiana Sappia Che Pensare di orientare L'elettorato È un boomerang E se in fondo Oggi Non c'è più Neanche L'ipotesi Di un partito Di ispirazione Cattolica Si deve al fatto Che sia le condizioni Internazionali Sia quelle interne Non lo consigliano Perché in realtà Se si contasse Il mondo cattolico Si vedrebbe Che avrebbe Pochissimi voti Perché l'elettorato È molto laicizzato Per fortuna E vota come vuole Quindi Credo che Venga da molto prima Se noi ci pensiamo I due grandi segnali Sono stati i referendum Sul divorzio E sull'aborto 74 85 81 Mi pare 80 81 74 81 Non facciamo figuracce No 74 Sono Sì sì Quello sì L'altro L'altro meno 80 81 Mi ricordo Senta A proposito proprio di questo Nel 1949 Papa Pio XII Papa Vacelli Pio XII Prese un'iniziativa Pazzesca Scomunicò Il comunismo E i suoi aderenti Sia in Unione Sovietica Sia In Italia E lei riporta Che Monsignor Tardini Prosegretario di Stato Confidò al direttore Dell'osservatore romano Sta qua dentro Se la scomunica Attacca Abbiamo in Italia Sette milioni Di scomunicati Tali erano i voti Del partito comunista Se non attacca A che serve? Monsignor Pagano Non le ha detto Sulla base Di quali motivazioni Pio XII Prese un'iniziativa Così imprudente Ma non so se fosse imprudente Era un'iniziativa A mio avviso Molto simbolica E che nasceva Dalla guerra totale Che il comunismo Faceva al cattolicesimo E viceversa E noi dobbiamo pensare Che durante la seconda Guerra mondiale Quando Roosevelt Volle Riallacciare Relazioni diplomatiche Con l'Unione Sovietica Il Vaticano Fece di tutto Senza riuscirci Per impedirlo Mentre invece Per Roosevelt Il problema Era combattere il nazismo E quindi Gli servivano anche Stalin E l'Unione Sovietica Per quanto riguarda Il 49 Perché Quello era L'anticipo Della guerra fredda In fondo Nell'Unione Sovietica E in tutta L'Europa dell'Est Le chiese Venivano perseguitate Chiuse Incarcerati I fedeli I fedeli E in Italia Si aveva una grande paura Di un PC Che era fortissimo Era influente E soprattutto Predicava Una certa convergenza Di interessi Sul piano sociale Con i cattolici Il problema Dei cattolici Comunisti Enrico Berlinguer Era sorvegliatissimo Dalla chiesa Pio XII Leggeva sull'unità Perfino le pubblicità Quindi c'era Una grande inquietudine Perché si capiva Che una parte Delle masse cattoliche Potevano essere attirate Dal comunismo Io Guardi In appendice A questa sua risposta Le devo fare Un'altra domanda Però prima Come diversivo Leggo L'elenco L'elenco Parziale Degli scrittori E pensatori Che sono stati messi Nell'indice Dei libri proibiti Come lei sa Istituito Da Paolo IV Carafa Papa terribile Non lo sapevo Non lo sapevo Anzi mi dà una notizia Papa Paolo IV Carafa Fu un papa terribile Quello che fece Istituì il ghetto A Roma Secondo ghetto Al mondo Dopo quello Di Venezia E fece anche L'index Librorum Proibitorum Senta qua Balzac Cartesio D'Alembert Darwin Defoe Diderot Dumas Padre e figlio Flaubert Aine Hobbs Hugo Hume Kant Lessing Log Stuart Mill Montaigne Montesquieu Pascal Proudhon Rousseau Eccetera Adesso vi fermo Perché Finazzola E tra gli italiani Aretino Beccaria Benedetto Croce D'Annunzio Fogazzaro Foscolo Galileo Gioberti Guicciardini Leopardi Machiavelli Marini Minghetti Monti Tra gli ultimi In ordine di tempo Sartre E Moravia Letteratura Degenerata Letteratura Degenerata Ora questo indice Ridicolo Perché Certo Quando si fa una cosa Del genere Si è nel ridicolo Contempla Comprende Le operette Morali Di Leopardi Ma non ha mai Compreso Il Mein Kampf Di Hitler Nello stesso modo In cui Pio XII Scomunicò Il comunismo Ma non Scomunicò Mai Il nazismo Beh Questa È una macchia Che resta E devo dire È una macchia Che resta Non tanto Per dei silenzi Che vanno Messi nel contesto Della seconda guerra mondiale E quindi Nella Nel timore Di rappresaglie Da parte Di Pio XII Ma secondo me La parte più Controversa È il silenzio Dopo la fine Della seconda guerra mondiale Come se Durante La guerra Ci fosse Il pericolo Di rappresaglie Non solo contro i cattolici Ma contro gli ebrei Perché Io ricordo Che Lo ha ricordato Pascalina Lennart Che era L'assistente Di Pio XII Che lui Voleva fare Un articolo Sull'osservatore Per attaccare I nazisti E si fermò Quando vide Che in Olanda Di fronte Alle proteste Dei vescovi I nazisti Avevano sterminato 40.000 ebrei Quindi C'era il terrore Di una rappresaglia Indiscriminata Il problema È dopo la guerra Perché Non si è mai stato Usato il termine Shoah Questo Lo voglio chiedere A Monsignor Pagano E fa bene Che ancora Non è qua Tra l'altro Lei In questo bel libro Ha messo anche La fotocopia Di questa lettera Lothar König Di un gesuita tedesco Scoperta di recente Com'è quella storia lì? Ma è stata Scoperta di recente Semplicemente Perché L'aveva la segreteria Di stato In archivio Non l'aveva ancora Consegnata All'archivio Ex segreto Apostolico E quindi Alla fine Quando l'hanno Vista Hanno anche capito Quanto fosse importante Perché diceva Nel 42 Fine 42 Che c'erano i Lager A Birken In Auschwitz Quindi il Vaticano Da allora sapeva Ma questo König Che era uno degli esponenti Di una rete Cattolica e protestante Antinazista Diceva pure Non dite nulla Tenete segreto tutto Perché se i nazisti Arrivano in Vaticano E scoprono qualcosa Noi siamo morti Quindi c'era anche Questa remora Insomma c'era la paura Che i nazisti Potessero Anche in questo caso Fare rappresaglie Sanguinarie Guardi Sono cose Il terrore Che Il nazismo Riuscì a spandere Data anche la Meticolosa Organizzazione Veda Si parla spesso Anche a sproposito Di genocidio Il genocidio nazista Fu una cosa Organizzata A freddo Intorno a un tavolo Tra persone O in uniforme O vestite Con la giacca E la cravatta Come noi adesso Le quali dissero Dobbiamo trovare La soluzione finale Per il popolo ebraico Era la prima Di ecidi E piena la storia Dell'umanità E purtroppo Anche sotto i nostri occhi Oggi Ma Era la prima volta In assoluto Che si pianificava Lo sterminio Di un popolo Seduti intorno a un tavolo Con criteri Virgolette Scientifici Infatti io credo Che parlare Oggi di genocidio Rispetto ad altre situazioni Confonda dal punto di vista Storico E non sia giusto Perché quello è stato Veramente In malassoluto Quello è stato qualcosa Che ha previsto Scientificamente A freddo Lo sterminio Di un popolo Quindi Mi dispiace dirlo Ma è diverso A tutto quello A cui assistiamo oggi Sono assolutamente D'accordo con lei Genocidio vuole dire È un termine Relativamente nuovo Tra l'altro Quasi un neologismo E vuole dire Sterminio Di un Di un'etnia Di un popolo È diverso Si può parlare Di strage Ecidio Omicidio di massa Ma genocidio È un'altra cosa Ancora Quali furono A parte Gli eccessi Ai quali abbiamo Già accennato Nella realtà Fattuale Il rapporto Perché poi La politica Conosce anche Quello che avviene Sotto il tavolo I rapporti Negli anni Cruciali Dopo le elezioni Del 48 E poi del 53 La cosiddetta Legge truffa Eccetera Tra Santa Sede E Comuni E partito comunista Ma furono Rapporti Di scontro totale Scontro totale Che poi Non riguardava Solo l'Italia Noi dovevo pensare Nel 49 Quando Mao Cominciò Ad occupare Tutta la Cina Il Vaticano Che aveva Una legazione apostolica A Nanchino Si rivolse Agli americani Per portare via L'archivio Via nave Una nave militare Statunitense E portò via L'archivio Fino a San Francisco Dove rimase Alcuni anni E poi fu portata L'archivio segreto A Roma Quindi C'era Sul piano mondiale Questa è una cosa C'è una notizia Che Beh c'è nel libro Ed è una notizia Che abbiamo trovato Che Monsignor Pagano Ha raccontato Credo sia Contenuta In uno degli studi Che hanno fatti I suoi archivisti Sul piano italiano Si risentiva Di questo clima E quindi Il rapporto Era di scontro Totale Tanto che Pio XII Querelò una volta Una giornalista Dell'Unità Perché lo aveva accusato Di avere le mani Sporche di sangue Io ho anche chiesto A Monsignor Pagano Se avesse fatto bene Secondo lui Pio XII A querelare Monsignor Pagano Ha detto di sì Quindi c'era Un rapporto Estremamente duro E ripeto Con un'attenzione Ossessiva A tutti i comizi Che faceva Togliatti Paglietta Il giovane Berlinguer Tutti i comizi Faceva Franco Rodano In giro per l'Italia Franco Rodano Era uno Uno dei cattolici Comunisti Era il circolo Della scaletta Quella dei gesuiti Vicino All'Iceo Visconti Di Roma A piazza del collegio Romano Dove si formarono Appunto Rodano Adriano Sicini Franco Tatò Che diventò poi Il braccio destro Di Berlinguer Quindi Era un mondo Che culturalmente Si avvicinava Al mondo cattolico Ma quando ci fu La guerra fredda Pio XII Disse O di qua O di là E a convincere Queste persone Che non c'erano più Margini Di ambiguità O di manovra Fu Giulio Andreotti Che era amicissimo Sia di Ossicini Sia credo Di Rodano Vorrei parlare Anche di De Gasperi Ma che Disobbedì Agli ordini L'uomo Dalla schiena dritta Per fortuna Per fortuna Però prima voglio Invitarla A fare un passo indietro Perché lei prima Ha ricordato La paura Che ha avuto La chiesa A cominciare da Pio IX Quando si rese conto Che E poi Pio X Quando si rese conto Che le nuove idee Le nuove tecnologie Non dico quelle di oggi Quelle di allora La stampa Il telefono La radio Avrebbero rappresentato Per il cristianesimo Per il cattolicesimo Ma ci fu un altro periodo Più antico Nel quale la chiesa Ebbe molta paura E fu dopo La riforma protestante 1517 Lutero Spacca la cristianità Lontana da Roma Gran parte Dell'Europa Settentrionale E Roma E il Vaticano Tra le altre cose Reagisce Come ci mostra Questa clip Con cuor sincero E fede non finta Abbiuro Maledico E detesto Li suddetti errori E teresie E giuro E per l'avvenire Non dirò mai più Ne asserirò In voce O in iscritto Cose tali Per le quali Si possa aver di me Un simile sospetto Io Galileo Galilei Ho abbiurato Giurato Promesso E mi sono obbligato Come sopra E in fede nel vero Di mia propria mano Ho sottoscritta La presente cedula Di mia abbiura E recitatela Di parola in parola In Roma Nel convento della Minerva Questo di 22 giugno 1633 Bisogna immaginare Questo uomo Questo vecchio Glorioso Di 70 anni Rivestito Del saio penitenziale In ginocchio Sulla nuda pietra Davanti ai suoi giudici Che Rinniga E abbiura Una teoria Cosmologica Che sa essere vera Perché l'ha sperimentata E la tragedia Che si è ripetuta Ogni volta Che uomini Fatti si giudici Hanno condannato Non In base A ragioni Della scienza O a motivazioni Della razionalità Ma Sulla base Di dogmi Indiscutibili Nel giugno 1633 A Roma Si consumò Una tragedia Della libertà Una tragedia Della libertà Motivato Questo era uno spettacolo Che facemmo Devo dire che Ascoltandolo Fa più impressione Che leggendolo Fa veramente impressione La formula La formula Eh sì È la formula È terribile Di fatti Lo stesso Monsignor Pagano Perché stava in ginocchio Era un uomo vecchio Quasi cieco Quasi cieco In ginocchio Vestito con un saccone Del penitente Monsignor Pagano Ha detto In un'occasione privata Che lei ricorda Quella fu Un'umiliazione Che si poteva Risparmiare Di fatti Si poteva Si poteva Lui sa Una delle ragioni Per le quali Galileo Abbiurò Nel 33 È che 33 anni prima Il Giordano Bruno Era stato bruciato A Campo dei Fiori Per avere detto Che esistevano Infiniti mondi E infiniti pianeti Dove c'è la statua Oggi a lui dedicata La statua a lui Eccola qua Che la nostra Sabrina Ce la fa prontamente vedere Che era un modo Di mettere in discussione Perché se ci sono Infiniti mondi Eccetera eccetera Adesso non mi voglio Adentrare Quello che invece Volevo Monsignor Pagano Ricorda Che poi c'è stato Un parziale Tentativo Di riabilitazione Di Galileo Però Molto parziale Beh Lui è stato L'uomo Incaricato A Giovanni Paolo II Di studiare Le carte del processo E Giovanni Paolo II Aveva deciso La riabilitazione Tant'è vero Disse Si tratta di Purificare La memoria storica E Monsignor Pagano Dice In realtà Secondo me La storia Non va purificata La storia È quella che è Ma racconta Un episodio Che fa capire Che Quell'atteggia Prego Prima che le vada avanti Voglio ricordare A chi ascolta Che Giovanni Paolo II E il Papa Polacco Certo Carol Voitiva Carol Voitiva Scusi Prego Monsignor Pagano Racconta un episodio Molto indicativo Di una mentalità Ormai minoritaria Ma evidentemente Dura a morire E cioè Quando lui Stava studiando Queste carte Del processo Galileo Fu convocato Da un cardinale Francese Che gli disse Monsignore Se lei trova Qualcosa Di compromettente Per la Chiesa Lo bruci Cosa che Pagano Non fece Ma Per farle capire Che in alcuni Angoli Reconditi Della mentalità Vaticana C'era ancora Chi pensava Che di fronte Ad una cosa Imbarazzante Per la Chiesa Si potesse Ricorrere A un incendio Doloso Difatti Veda Caro Franco La mia Paura Non voglio dire Sospetto Dico solo Il mio timore È che Negli archivi Relativi A Pio XII Di cui Adesso Parleremo Come signor Pagano Che ci sta Per raggiungere Ci fossero Dei documenti Che magari Qualcuno Ha pensato Che era bene Che non vedessero La luce Credo che sia Un po' Difficile Però Perché Ho l'impressione Che l'indicazione Si è stata Quella Tirare fuori Tutto E se vuole Anche questo libro È un segno Che C'è la voglia Di comunicare Con un'opinione pubblica Non è solo quella Degli accademici Degli studiosi Vaticani Ecco una domanda Che non le ho fatto Questo libro Si chiama Secretum Ed è Ed è Riguarda L'archivio Come l'ha chiamato Archivio apostolico Non io Papa Però Lei è stato Il primo Laico Il giornalista Tra l'altro Che ha potuto Metterci gli occhi E le mani Perché fino a poco Tempo fa Era proibito A che si deve Questo cambio Di atteggiamento Io credo Che sia Proibito Accedere nel bunker In questo Sotterraneo Sterminato In realtà L'archivio Può andare Chiunque Presentato Da una università E chiedere Alcuni documenti Giustamente Non vogliono Che si entri Dentro questo bunker Io l'ho fatto Solo perché Monsignor Pagano Mi ha guidato Perché stavamo Facendo il libro Insieme Per un anno E mezzo E quindi Alla fine Abbiamo fatto Questo viaggio All'interno Ma Scusi Prego C'è sicuramente Un cambio Di atteggiamento Secondo me Sì Ma sì Ma perché Monsignor Pagano Poi credo Che Voglia lasciare Un segno Del lavoro Che ha fatto Lui È prefetto Dal 1997 Prima è stato Per due anni Vice prefetto E lì da 44 anni E in fondo È un cardinale Argentino Mejia Che oggi è scomparso Una volta ha detto Che Monsignor Pagano Non è il prefetto Dell'archivio segreto Ti pensi di questo Papa Vuole comunicare di più Aprirsi di più Questo è indubbio Comunicare di più La ringrazio Massimo Franco Di questa bella Grazie a lei Mi faccia un gioco di parole Di questa franca conversazione Adesso ci raggiunge Dopo un piccolo break Monsignor Pagano E con lui vorrei approfondire bene Il discorso su Pio XII Per quanto sarà possibile farlo Vediamo Ma credo sarà possibile Perché sa tutto Grazie Auguri per il libro E complimenti Grazie a lei Ci ha raggiunto Monsignor Pagano Più volte evocato Prima durante il colloquio Con Massimo Franco Grazie di essere qua Grazie a lei Vorrei dire due parole Di presentazione Lei è teologo Prefetto dell'archivio vaticano Una volta segreto Oggi invece apostolico Ligure di origine Sì Famiglia modesta 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 È arrivato agli studi Solo grazie Alla sua applicazione E al sacrificio E alla congregazione dei Bernabiti Nella quale sono entrato E nella quale ho potuto fare Tutti gli studi Con molta assistenza Ma i Bernabiti Mi scusi Io non sono pratico Non sono cattolico I Bernabiti Sono un ordine sacerdotale Sì Una congregazione religiosa Nata ridosso del concilio Prima del concilio di Trento E sviluppatasi dopo Parallela Si può dire A gesuiti Somaschi Ad altre congregazioni Però sono più buoni Però sono minori di numero E con un altro stile Diplomaticamente Dice così Perché i gesuiti Ci sono quelli che Insomma Li considerano un po' Cattivelli Allora Prima Il nostro Massimo Franco Ha detto Monsignor Pagano Non è prefetto Dell'archivio È l'archivio Da quanto tempo Lavora lì? Sono 45 anni Che io lavoro All'archivio Vaticano Sono entrato Molto giovane Nel 78 La frase Detta dal cardinal Mechia Che il prefetto Pagano Sia l'archivio È evidentemente Esageratissima Neanche se uno Vivesse mille anni Dentro l'archivio Potrebbe dire Di essere l'archivio Però conosco Un po' Un po' Quel che posso Diciamo un po' Gentile Monsignore Io vorrei So che lei Ha un giudizio Articolato Su quel periodo Io vorrei Concentrarmi Sul Pontificato Di Pio XII E in particolare Sul discusso Atteggiamento Di quel Papa Relativamente A rapporti Con il nazismo Allo stermino Degli ebrei Alla seconda guerra mondiale Al complicatissimo Rapporto Di forza Di potere Ideologico E spirituale Che si era creato In quegli anni Nel quale era Ammetto Difficilissimo Districarsi Vorrei Vorrei Che ci introducessimo A quell'argomento Con un breve Estratto Da un colloquio Che io ho avuto Con la senatrice Liliana Segre Poco tempo fa Da poco si sono aperti Gli archivi vaticani Che sono stati chiusi Fino a poco fa E credo E credo che dagli archivi Vaticani Esca Questo Pio XII Complessatissimo E bisognava Averlo incontrato Come l'ho incontrato io Al mio ritorno Ho chiesto Una Udenza privata Perché speravo ancora Di avere notizie Di mio papà Lui Mi ricevette E gli occhi Del papa Mi colpirono In un modo incredibile Due fessure Come i tagli Di Fontana Quando ho chiesto A Fontana Perché aveva fatto I tagli Lui disse Perché io volevo Vedere Al di là E dal punto di vista Artistico Era una bella risposta Anche se magari Aveva solo trovato Un modo Di essere originale Gli occhi del papa Erano così Non ti guardavano Direttamente Guardavano Al di là Poi non ho avuto Mai notizie Di quello Che aveva promesso Lui Lui dette Delle assicurazioni Però lì per lì Lui chiamò Un suo Assistente Insomma un pescovo Non so chi Disse Mi raccomando Di parlare Con l'unzio apostolico Di Berlino E di fare Però le notizie Non potevano neanche arrivare Ma quando io lessi Che il suo medico privato Aveva venduto L'agonia del papa Non so se lo ricorda Me lo ricordo perfettamente L'agonia del papa Alle televisioni Ecco Era la giusta morte Per quest'uomo Che non aveva Avuto la forza Di Opporsi A Hitler Di mettersi davanti al treno Del 16 ottobre Perché era inutile andare A San Lorenzo Quando c'è stato il bombardamento A benedire i romani Quello lì Sì è bello Che l'abbia fatto Ma lui Doveva il 16 ottobre Mettersi davanti al treno Non credo Che il macchinista L'avrebbe messo sotto E rimaneva Un papa Che pur avendo Tutta la sua educazione tedesca La sua ora tedesca Tutti gli anni Che aveva fatto in Germania No Queste sono persone Che vengono portate al macello Io sono qua E sto con loro Ecco Il giudizio di Liliana Segre È molto aspro Come lei ha ascoltato Lo vuole correggere Lo vuole temperare Ci sono delle ragioni Per le quali Quel giudizio Se c'è uno Che può esprimere Un giudizio aspro È Liliana Segre Per quello che ha passato Da ragazzina Per il modo Fortuito Per il quale È ancora tra noi Invece che essere finita In un forno Ma lei Forse può Temperarlo Io Non mi posso Paragonare Minimamente Lontanissimamente Alla senatrice Liliana Segre Per la vicissitudine Che le costò E che così bene Fa toccare a noi Con mano Però Ironia della sorte La ricerca del padre Di Liliana Segre Fu compiuta subito Dal Papa E noi Abbiamo dato Recentemente Due anni fa A Liliana Segre La documentazione Di suo padre Che abbiamo In archivio Quel gesto Dunque fu compiuto Non è nulla Rispetto certamente Alla tragedia Che si consumava Su tutte le altre cose Che la senatrice Racconta In corpo Revili Perché le ha vissute Io avrei Giudizi Molto Più Sfumati E anche Più complessi Lei dice Che Pio XII Era un uomo Complessato Quella Quella Si capisce Da fuori Sembrava Lo era In effetti Una personalità Molto complessa Ipercontrollata Che studiava Persino Le sue apparizioni In pubbliche Nelle conferenze Nelle udienze Private Eccetera Eccetera Non voleva dire Una parola di più Era preso Dal perfezionismo Dell'idea Del Papa Che non può sbagliare Per cui Forse a lei Riuscirà nuovo Ma Nelle terribili Udienze Che concedeva A tutti i gruppi Di studiosi Che venivano a Roma Era per esempio Aveva una mania Per i congressi Di medicina Qualsiasi Tipo di medicina Si trattasse Lui si informava Faceva comprare libri Prima di ricevere I medici Poi in udienza E quando li riceveva Faceva loro Dei discorsi Che effettivamente Stupivano Perché il Papa Aveva Rispetto Verso L'interlocutore Loro venivano A vedere il Papa Ma il Papa Ristimava loro E faceva dei discorsi Molto Molto Stimati E anche Eccetera Quindi Era una figura Complessa Veda Se posso Monsignore Quello che Liliana Segre Invoca Auspica Che fosse Avvenuto È Un gesto Eroico Adesso poi Lei risponde Un gesto Eroico Cioè Rischioso Uscire dal Vaticano Andare Alla stazione Delle ferrovie Dove partiva Quel convoglio Con quelle Mille E sessanta Persone Destinate Al macello E fermarsi Davanti Alla macchia Alla locomotiva Dicendo Schiacciate Me Gesto poco Diplomatico Anzi Assurdo Però Eroico C'è una componente Eroica Nel protocristianessimo Che con l'andare Dei secoli Si è perduta Sì Si è perduta Anche noi Uomini di chiesa Siamo pieni Di difetti Come forse Tutti Ma Ciò che lei Dice è vero Però Rispetto a quel Giorno Della tragedia Del 16 Ottobre 43 Del rastrellamento Dei ghetti Del ghetto Di Roma Bisognerebbe Andare più cauti Si dice sempre così Forse gli storici Esagerano Nel misurare Pesi e contrapesi Ma questo è La riflessione storica Altrimenti Si parla Così Per partito preso Per senza Sì Ho sentito Ho letto Adesso Anche recentemente Di una giornalista Scrittrice Che dice Che il Papa Appena eletto Fece Mandò una lettera A Hitler Ricordando Il periodo passato In Germania E sperando Che le due parti Si messero d'accordo Come se Questo fosse Il Papa Di Hitler Ora Tutti i capi Di Stato Di questo mondo Appena eletto Un nuovo Papa Ancora prima Della consacrazione Gli fanno Gli auguri E questa era La lettera di risposta Molto mal interpretata Molto mal interpretata Nella faccenda Che so che le sta a cuore E tanto più Alla senatrice Segre Della deportazione Di questi ebrei Verso la stazione Tiburtina Dove furono caricati Come bestie Su questi treni Le cose Sono più sfumate La contessa La contessa D'Aragona Adesso mi sfugge Il nome Si sa La mattina Presto Mentre iniziava Il ghetto La deportazione Senza alcun preavviso Si Si trasferì in Vaticano Fu subito ricevuta Dal Papa Circa verso le 6 Il Papa Celebrava la Messa Alle 7 Quindi la ricevette Subito Lei disse L'urgenza Di un gesto Per intervenire Contro quel restrellamento Il massacro Che stava succedendo Lui dopo la Messa Incaricò Il cardinale Segretario di Stato Maglione Di chiamare Weizsäcker L'ambasciatore tedesco E Maglione Fece di tutti C'è il gesto E' così grave Che noi potremmo Dire qualche parola Come dire All'ambasciatore Fermatevi Ma Weizsäcker Fece un sorriso Perché l'ordine Veniva fortemente Da Berlino E lei sa Che l'ordine Avvenne dopo La beffa Dell'oro Del ghetto Per cui Prima I tedeschi Con Kapler Chiesero Di radunare 50 kg 50 kg d'oro Che andarono A Berlino Ma nonostante questo Si rivelò Una beffa Evidentemente Perché poi La deportazione Ci fu Lei dice Giustamente Ma se il Papa Avesse fatto Un gesto Così eclatante Lo dico Lo dico anch'io Oggi Quello è un gesto Che sarebbe Comparso Nel pianeta Terra Dappertutto Un Papa Che cerca Di fermare Un treno Forse un altro Come con Montini Appena Successo Successo Il bombardamento Uscì subito A vedere Le basiliche Tornò In Vaticano Esterefatto E disse Qui il Papa Deve andare Fu il consiglio Di Tardini E il Papa Questa volta Subito Lo accettò E andò Figurarsi Se qualcuno Avesse detto Vada Davanti al treno Il Papa Era abile In questo Pesava E so Pesava Cosa sarebbe Successo Non solo A quegli ebrei Già caricati Sul treno Ma a tutti Gli altri ebrei Dell'Europa Che ancora Erano cercati Lui aveva Questo grande Timore Che si è portato Nella tomba Con i suoi silenzi La paura Di essere Lui L'origine Di una più grave Persecuzione Lei dice Nel libro Dice a Massimo Franco Nel libro Che Pio XII Aveva La consapevolezza Del suo silenzio Cioè Sapeva Di stare zitto Sì Lo dimostra In tre colloqui Che lui ebbe Con diversi diplomatici Uno dei quali Era Angelo Giuseppe Roncalli E l'Annunzio a Parigi Che poi divende Giovanni XXIII E ricevendolo In udienza A Castel Gandolfo Così come L'ambasciatore italiano Presso la Santa Sede Chiese Che cosa si dice Del mio Dei miei silenzi Evidentemente La risposta Degli interlocutori Fu imbarazzata Ma non per questo Il Papa Cambio rotta Perché era convinto Che attraverso Il silenzio Poteva agire In mediazioni Diverse E lei sa Quanti ebrei Furono salvati Dai religiosi Dai conventi Eccetera A cui lui Tolse la clausura Specie a quello Di monache Proprio Per fare entrare Ebrei E sospetti E fugaci Dalla persecuzione Tutti cercano La famosa circolare Lei si ricorda Di cui si parlò Anni fa In Vaticano La circolare Di Pio XII Per ospitarli Gli ebrei Nei conventi Non è mai esistita La circolare Ma la circolare Si può riassumere In una esenzione Della clausura Che preventivamente Pio XII Aveva concesso Di modo che Sia i frati Sia le monache Sia i monici Potevano Spetere tutti Di qualsiasi sesso Uomini e donne Nei loro conventi Per salvarli Dunque Da una parte Il silenzio Dall'altra parte Un'azione Forse nata Di carità E di salvezza Ergo omnes Fin quanto è stato possibile Restano un paio di domande Lei è questa appassionata E documentata Difesa E apprezzabile Restano un paio di domande Perché Io ho ricordato Poc'anzi Che La Chiesa Ha messo all'indice Le operette morali Di Leopardi Nell'850 Ma non ha mai messo All'indice Il Mein Kampf Di Hitler Lei ha una spiegazione Per questo? Francamente Per questo Non ce l'ho Però Ne ho una Indiretta In Vaticano Ci fu Un vescovo Alois Udal Che lei conosce Che aveva Esplicite Simpatie Naziste Il Papa Prima Non sapeva Di questo carattere E quindi Ha aiutato Udal Che poi Sarà rettore Della Santa Maria Dell'Anima Dei tedeschi Eccetera Ma quando ha saputo Che Udal Tradusse Aveva tradotto Il Mein Kampf Lo allontanò Non lo ricevette più Quindi Non possiamo dire Che ci fosse La volontà Di escludere Il Mein Kampf Di Hitler Dall'indice Cosa poi Sia successo Io Sono ignorante No no Per carità Sono cose Non si può Sapere tutto Lei del resto È prefetto Degli archivi Quindi quello che non c'è Non c'è Però veda Anche questo episodio Che lei ricorda Ci mette davanti A questo atteggiamento Sempre del Papa Ufficialmente Silenzioso Sotto la tavola Con l'altra mano Fare qualche cosa Ma che non si sappia Questo è È un atteggiamento Anche positivo Ma che rivela Un carattere Cioè Un Papa Come il Polacco Poitiva Non l'arrebbe mai Lui andò Ad agrigento Andò ad agrigento A dire ai mafiosi Che stavano lì Davanti a lui Pentitevi Verrà un giorno Come Come il Cardinale Come nei promessi sposi Sì sì Questo è vero Un Papa Come Giovanni Paolo Secondo avrebbe fatto Un gesto Un Papa combattente Sì Pio XII non era così Era un carattere complesso Questo lo ammettiamo Anche noi Si vede Forse troppo Iperteso Controllava Se stesso E tutte le persone Che lo circondavano I problemi Della Chiesa C'è da dire però Io che ho studiato Un po' Le carte Delle udienze Che Pacelli Aveva con Montini Che era un Papa Che vedeva lungo Lungo Perché alcuni fenomeni Che stavano nascendo Allora nella Chiesa Lui aveva già capito A che porto Avrebbero condotto E li fermò La secolarizzazione La trasmigrazione Di frati Ad altri ordini La mancata formazione Del clero L'immoralità Di certo clero cattolico Eccetera Eccetera Naturalmente Aveva questo carattere Che noi oggi Diciamo Sì A noi Pare in effetti Troppo Controllato Incapace Di fare un balzo Quando veramente Dal trono di Pietro Ci si aspettava Tanto più Che dopo la guerra Gli ebrei Sono i primi Che riconoscono Che la figura Del Papa Era la più sublime Alcuni rabbini Già nel 45 Vengono ricevuti E lui fa un piccolo Discorsino Questi vanno via Delusi Perché dicono Se ce l'avessero fatti I capi di Stato L'avremmo capito Ma qui Siamo venuti Da un padre Lo dicono gli ebrei Nell'udienza E c'è uno scritto E quindi Questo padre Doveva avere Verso di noi E verso quanto Abbiamo sofferto Maggiore pietà E invece lì Fu controllato Perché eravamo Nel 45 C'era già La questione Della Palestina Trovare una patria Agli ebrei E insomma È il bilancino Del diplomatico Che soppesa Tutto Più Che del pastore Che prende Una posizione Bella questa frase Mi piace molto E io aggiungo Anche un carattere Non particolarmente Ardimentoso Un temperamento Era un figlio Della piccola Nobiltà romana Allievo di seminari E lei sa meglio Di me Quanto anti Non semitismo Anti Ebraismo Ci fosse Nei seminari Cattolici Allora Oggi forse Non più Ascolti Lei L'ho sentita dire Massimo Franco Mi ha fatto Delle domande E io A quelle domande Ho risposto Io le voglio fare Un'altra domanda Che nel libro Non c'è Dopo la guerra Dopo quell'udienza Concessa Ai rabbini Che è diventata Famosa Il Vaticano Si adoperò Per fornire Passaporti E una via Di fuga A gerarchi E criminali Nazisti Perché potessero Espatriare Verso il Sud America E nel gergo Di quegli anni Questa venne chiamata The Red Line La via dei topi Che scappavano Quello è grave È grave comunque Ma anche qui Vede A volte i documenti Vanno letti tutti Confrontati Misurati Soppesati Giudicati Non pare Che in questa azione Di espatrio Dei gerarchi Nazisti E criminali Criminali Nazisti Ma certo Gerarchi Criminali Norimberga Li aveva condannati Quelli che Che poterono Essere presi Abbia agito In quanto Vaticano Perché il Papa Tutto si può dire Di più del XII Ma è un uomo Sempliciotto Quindi il Vaticano Pare che Si tirasse fuori Da questa cosa Lo facevano più I nunzi Apostolici E i Vescovi Ma in questo Espatrio Come Santa Sede Il Vaticano Entra poco Non credo Che da noi Si trovi mai Un passaporto falso Per questi gerarchi E criminali Va bene Accetto la sua risposta E salto All'attualità Lei ha In più Risposte In questo colloquio Che spero Gradisca Come sto apprezzando Io Perché mi piace Cioè nel suo atteggiamento Un equilibrio Non pavido Ma ragionato Documentato Questo È un dato Che apprezzo molto Allora Oggi La Chiesa Attraversa La Chiesa Cattolica Attraversa Difficoltà Enormi Forse Senza Soluzione C'è Nell'Occidente Per l'Occidente Intendo L'Europa E gli Stati Uniti Il Canada Insomma Grosso modo Questa parte Del mondo Nell'Occidente La secolarizzazione Che lei del resto Ha poc'anzi richiamato È enorme Io vado Spesso a parlare Nelle scuole Domando Chi di voi È cattolico Praticante Ragazzi di liceo Si alzano Due Quattro mani Cinque Lei lo sa I matrimoni Non religiosi Stanno diventando Più numerosi Di quelli religiosi L'Ora di religione Viene Spesso disertata Eccetera Eccetera Come la valuta Lei questa situazione? Ovviamente Dal punto di vista Mio Di sacerdote Vesco Tristemente La valuto Perché la fede Di Cristo Eleva L'uomo E l'umanità Si può Avere La propria idea Su tanti aspetti Ma lei per primo Pur essendo Laico E non credente Ha sempre sostenuto L'altezza Del Vangelo Di Cristo Quanto a messaggio Che poi Le chiese Siano vuote La gente Non fa battezzare I bambini Fino a che Decideranno loro Con la maggior età Che I matrimoni Nessuno Si sposi Quasi più In chiesa Se non Per orpelli Di scena Detestabili Questo purtroppo È un fatto Che vediamo Tutti i giorni E che però Viene da lontano La Roma Papalina Ha portato Al 70 La breccia Di Porta Pia Non se ne poteva più Tanti regni Cosiddetti Cattolici La Spagna La Francia Cattolicissima La Spagna Cattolica L'Europa Cattolica Eccetera Mi rascusi Piccola parentesi Goffa Mi piace La definizione Che ebbe La Francia Figlia Enei Dell'Eglise Figlia Primogenita Della Chiesa Adesso vediamo Però Dove siamo arrivati E quindi Questo Cesaro Papismo Trono Altare Potere religioso Potere politico Che senza dubbio Ci fu Sembrava Una via Per aiutare La prosperità Della Chiesa A lungo andare Quando queste cose Non nascono Dall'animo Dalla fede Dalla convinzione Religiosa Ma da orpelli Sociali O politici Lascia questi frutti Inevitabilmente E le dico la verità Non sono contento Perché in un paese A basso livello Di acculturazione Media La Chiesa A parte le esagerazioni Le prepotenze L'arroganza Di cui qualvolta Ha dato prova La Chiesa È stata anche Un cemento sociale Che ha contribuito A tenere insieme Il paese Chiusa la parentesi Meriterebbe ben altro Ascolti Monsignore Le voglio far vedere Che è anche un modo Per ricordare Un nostro carissimo Collega e amico Prematuramente scomparso Andrea Purgatori Un breve estratto Di un programma Andato in onda Tempo fa Su questa rete Mi sembra interessante Anche il passaggio In cui Don Georg dice Io non ho mai Visto Né saputo Che esistesse un dossier Io Don Georg l'ho incontrato Nel 2011 Quando avevo presentato La petizione fatta A Ratzinger Quindi avevo raccolto Le firme Gli ho telefonato L'ho incontrato Lui dice Questo fatto E ci siamo incontrati Gli ho raccontato Alcuni fatti Lui mi ricordo Perfettamente Disse voglio sentire Gianni E chiedergli di fare Una sorta di indagine Gianni il capo Della armeria Che poi va Sì Voglio chiedergli di fare Una sorta di indagine E vedere tutto quello Che raccoglie Su questa questione E da lì Si è formato Questo famoso dossier Che Paolo Gabriele Che era un mio amico Mi ha detto Io l'ho visto Sul tavolo di Monsignor Georg C'era scritto Qualcosa tipo Rapporto Emanuele Orlandi Mi dispiace tantissimo Che non l'ho potuto Fotogliare Perché era Una cartina Trasparente E spillato E quindi È reale Poi adesso lo dirà anche L'avvocato Sgro Ora la sentiamo Che Gheorg Lei ha detto Certo sta in segretà di Stato Sentiamo l'avvocatessa Anche Gianni Ha messo a me Che ha fatto Quel fascicolo Ognuno ha una sua versione Me l'ha detto lui Che l'ho fatto Questa è Agata Cristi Al massimo livello Avvocatessa Sgro A me Lo disse Mi disse che Un fascicolo Riservato C'era E che Avrei dovuto insistere Con la segretaria di Stato Per farmelo dare Questa è una cosa Che ho detto Tantissime volte Anche prima Che uscisse Che uscisse il libro Peraltro Visto che proprio Qualche giorno fa Monsignor Gasvain Ha fatto un'intervista In cui ha parlato È stato derubricato Questo dossier In un appunto Che avrebbe consegnato A Papa Benedetto Monsignore Emanuele Orlandi Nel libro Il dottor Franco Mi fa la stessa domanda Io risposto Dio Emanuele Orlandi In archivio Non c'è pagina Riga su riga Neanche a immaginarlo Anche perché È un fatto Abbastanza recente Rispetto ai nostri documenti Dovrebbe essere versato Se esiste Negli anni futuri Io però Su questo argomento Quindi non so nulla D'altra parte L'avvocatessa Sgro Diceva Che il procuratore Di Mi pare che si chiami Del Tribunale Vaticano Dopo un po' Che ebbe l'inchiesta Fra mano Disse che Aveva trovato Numerose carte Impolverate Forse le impolverate Devono stare da noi Perché per avere polvere Le carte Devono avere decenni Da noi non ci sono Dove le abbia trovate Non si so Non si sa Dopo quella dichiarazione Però non è apparso nulla Io di un fascicolo Di Emanuele Landi So che esisteva Quindi probabilmente Quello Forse Quello che hanno visto Sulla scrivania Di Benedetto XVI Ed è il fascicolo Dell'eco La stampa Che Monsignor Scotti Che era archivista In segreteria di Stato Mi mostrò Erano gli echi Della stampa E tutte le dicerie Perché appena uscì Il nome del Vaticano Per una ragazza Scomparsa a Roma Che poteva aver fatto Tristemente Chissà quale fine Il Vaticano Fu bersagliato E fu raccolto L'eco della stampa Che fu portata Al Papa Ma io Di altre cose Non ho notizia Che ci sia Nessuna inchiesta Comunque Se il Tribunale Vaticano Dice di avere Tante carte Impolverate Prima o poi Penso che le faccia vedere Vedremo Speriamo Con Con tempi Non biblici Sì speriamo Sa una cosa Le voci Le dicerie Alle volte Verosimile Alle volte Calumniose Dipendono anche Dalla scarsa Trasparenza Che finora Il Vaticano Ha sempre dimostrato Io ricordo Un caso Scandaloso Che quando Vennero Assassinate Le guardie Svizzere E Monsignor E Navarro Valls Che era L'ha detto Stampa Stampa Allora Validissimo Convocò Ore dopo Una Conferenza Stampa Nella quale Dette Una spiegazione Semplice E chiaramente Inverosimile Di quanto Era accaduto Che quella Giovane Recluta Svizzera Non avendo avuto Una piccola Decorazione Tra l'altro Di routine Che si dava A tutti Aveva perso La testa E sparato Queste cose Monsignore Non si fanno Perché hanno Le gambe Corte Certamente Certamente Hanno le gambe Corte Però L'avvocatessa Sgrossi Dimentica Di dire Che lei È stata In segreteria Di stato E ha chiesto E ha chiesto Il fascicolo E le fu mostrato Che è questo Che dico io L'eco Della stampa Evidentemente Non trovando nulla Non era contenta Credo che non lo sia Neanche oggi Ma santo Dio Se l'unico fascicolo Che c'è È questo Noi non possiamo Fabbricarne di falsi Né trovare La tomba Di Emanuele Orlandi In segreteria Di stato Questo è evidente Che le cose Non possono andare così Ci vorrebbe Più rispetto Della verità Sì È vero Ha ragione Questo Io sono assolutamente D'accordo Il Il Quando ci sono Queste cose complesse Dove si mescola Il segreto Del Vaticano Sì È un Un tema Sessuale Sì Nascosto Però invece Che affiora Una giovane Ragazza Di bell'aspetto È inevitabile Inevitabile Che le cose Diventino anche Si riempiano Per così dire Di fango Io la ringrazio Monsignor Pagano Per questo libro Che ha scritto Rispondendo alle domande Del collega Massimo Franco Veda Come lei ha detto Io non sono Cattolico Ma Ho la massima stima Per i sacerdoti Che fanno Alle volte Loro sì Con Un eroismo Penso ai sacerdoti Di prima linea Anche in Italia In terre di mafia Che lottano Contro la criminalità Insegnando Il Vangelo Io lì Sono pieno Di ammirazione E sono pieno Di ammirazione Anche per quelli Come lei Che con equilibrio E un sostanziale Rispetto Della verità Cercano di raccontare Come sono andate Le cose Io adesso Vado lì A leggere Una frase Di Goethe Bella Grazie a lei Per quanto ha detto Grazie Ci siamo ringraziati A vicenda Adesso Il grande Goethe Scrisse A proposito Della storia E con la storia Come con la natura E con tutte le cose profonde Del passato Del presente Dell'avvenire Quanto più si va a fondo E si penetra dentro Tanto più difficili Si fanno i problemi Chi non li teme E li affronta Con ardimento Si sente A mano a mano Che progredisce Sempre più colto E appagato Raramente la storia Può essere capita Gridando Sì o no A voce alta E stentoria Spesso Quasi sempre Comunque Spesso Converrebbe Il forse Il si vorrebbe Il si potrebbe Per chiunque Voglia provare A sciogliere Il groviglio Intricatissimo Delle vicende umane E quello che Limitatamente Alle nostre povere Possibilità Abbiamo cercato Di fare Stasera Alla prossima 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 Alla prossima